A Cavalca Ferrovia abbiamo fatto il primo stralcio di interventi quantificato attorno ai 300 mila euro complessivi per ridare la possibilità a chi esce dalla città, quindi dal centro verso Villa San Martino, di andare sulle due corsie, non più sulla corsia singola. Domani mattina abbiamo un sopralluogo con un paio di ditte per il secondo stralcio che indicativamente sarà il tratto che da Villa San Martino ci riporta in città, quindi via Bramante, appunto perché la linea è quella di dare le due corsie a chi va in discesa. Oggettivamente quando vai in discesa devi prendere una direzione, ripeto, o vai verso la stazione o vai verso Villa Bramante e avere due corsie renderà il traffico oggettivamente molto più agevole. Nel frattempo su Cavalca Ferrovia ci siamo giudicati un ulteriore bando sulla progettazione antisismica del ponte di oltre 200 mila euro che abbiamo già affidato e stiamo aspettando il decreto di un finanziamento del Ministero degli Interni molto importante che ci permetterà di dare un restining complessivo a tutta la struttura. Molte volte ci sentiamo, leggiamo e ci dicono che i lavori stanno andando lentamente, sono lavori complessi, non facili e la parte più difficile dovrà ancora arrivare perché quando si lavora sopra la linea ferroviaria le prescrizioni sono tantissime e anche gli orari di intervento sono difficili, qualcuno paragona il Cavalca Ferrovia al Ponte Morandi ma non è la stessa cosa anche perché le procedure adottate sul Ponte Morandi sono totalmente differenti sia dal punto di vista dei requisiti richiesti sia dal punto di vista dei prezzi pagati perché se uno va a vedere quanto costa un lavoro pubblico e quanto costa un lavoro in emergenza insomma parliamo di tutte altre cifre e contiamo già a settembre di ripartire quando insomma le aziende ritorneranno dalle ferie compatibilmente con le forniture di materiali che non sono un problema adesso grossissimo per tutti sia per il pubblico che per il privato di ridare la doppia corsia a chi arriva dalla periferia verso la città e poi appena avremo il decreto del ministero andremo avanti anche sulle altre situazioni diciamo il terzo step dovrebbe essere la rampa di accesso dalla stazione verso il Cavalca Ferrovia grazie a tutti